Partiti i lavori per la messa in sicurezza della preferenziale in via Quinto Pubblicio Orazio Pulvillo rientra in un primo pacchetto di cantieri che interesseranno anche le corsie esistenti in via Emanuele Filiberto e via Lelivia Eritrea e quelle di nuova istituzione su via Nomentana Val d'Aosta e via Val Melaina. L'obiettivo è rendere più veloce e sicuro il passaggio degli autobus. Lavori di manutenzione in piazza Lodi dove il 16 agosto si è registrato un cedimento dell'asfalto e la conseguente chiusura parziale della circolazione. Dalle indagini dei tecnici è emerso che mancava completamente il sottofondo stradale. È stata quindi ricostruita la parte sottostante alla strada predisponendo un sottofondo di ben 16 centimetri. E' ripartito dal 7 settembre archeologia in comune il programma di visite guidate gratuite condotte dai funzionari della sovraintendenza. Fino al 14 dicembre turisti e cittadini possono visitare siti e monumenti generalmente chiusi o aperti su richiesta. Il calendario con tutte le